Domenico Bonanni, AD di Megavision, anche lui oggi era allo stadio a Tavagnacco, che partita ha visto? Allora, ho visto una partita con tanto impegno, questo sicuramente, io non sono un grandissimo esperto di calcio, ho visto tanto lavoro e in realtà abbiamo prodotto un po' meno rispetto a tutta la fatica fatta, questo mi sembra il rimpianto. Quindi sono più due punti persi che un punto guadagnato? È dura dirlo, per me sì, sembrano più due punti persi che uno guadagnato. E un'ultima cosa, stando in tribuna qualcuno mormorava che si vedeva la mancanza della scozzese, di Lana Cleland, anche quello ha influito? Questa è veramente la cosa che ho notato, nelle ultime partite mi sembrava un faro in mezzo al campo, oggi mi è sembrato mancasse veramente. Bene.